e ora è quella di paolo ruffini se potessi cambiare la mia faccia vorrei esattamente quella di paolo ruffini non so se sarà possibile perché chiaramente è difficile fare una faccia così bella quindi montarla su una così brutta però insomma ecco se potessi scegliere sono deciso tra francesco mandelli perché veramente e alessandro roia fabrizio biggio e luca sardella bravo è deciso tra questi e aurelio de laurenti ma meraviglioso ma solo per avere il doppio petto con bottoni d'olio non so tra george clooney e sean connery che ha visto sean connery tanto appunto migliore nella vecchiaia quindi forse sarebbe la scelta ottimale io mi piacerebbe somigliare a roldo thieri non so se ve lo ricordate un attore del passato che ha una bellissima faccia grazie